O forse sotto stupidaggini con scarse applicazioni pratiche. Ho l'impressione che questo fiore sia la cosa più interessante che vedremo oggi. Se escludiamo la difficoltà di Twilight nel ricordare come mette in ordine i suoi libri. Scommetto che tutti i poni di Equestria si trovano ad Epolusa in questo momento. Tutti i poni tranne noi. Vorrei non dover aspettare di crescere. Io vorrei che succedesse in un lampo. Così sapremmo quello che ci serve per andare e tornare dalla fiera senza problemi. Io vorrei che fossimo grandi come le nostre sorelle. Così nessuno ci direbbe cosa fare e saremmo in grado di badare a noi stesse. Ehi, Sweetie Belle, perché hai la faccia illuminata? Sapete cosa significa? Possiamo andare alla fiera! Spero che tu abbia i biglietti. Sbrighiamoci se vogliamo prendere il treno. Penso che ce la faremo. Guarda come stiamo andando veloci. Le zampe dei grandi sono favore così. Non so quanto reggerà ancora il mio monopattino. Nessuno ci ha urlato di rallentare neanche una volta. Essere grandi è fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Certo che ce l'abbiamo fatta! Siamo dei poni adulti e adesso possiamo fare ogni cosa! Ora tutte le preoccupazioni di Twilight e delle altre non valgono più perché adesso siamo grandi ed essere grandi è tutto ciò che serve.